Sono in arrivo per la città di Fano più di 8 milioni di euro per la riqualificazione urbana di quei progetti presentati dalla Giunta Comunale. Siamo molto soddisfatti, ha esclamato il Sindaco Seri, per queste risorse destinate a progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026 che rientrano nel documento pubblicato nel sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Con questi finanziamenti andremo a migliorare il volto e la visione strategica della città, puntando su obiettivi fondamentali come la mobilità urbana, la socializzazione, il turismo, l'economia e la coesione territoriale. 8 milioni di euro per 8 diversi progetti. Intanto vorrei dire un bel risultato che si unisce agli altri 4 milioni avuti appena due mesi fa, che si uniscono a nuovi progetti che andranno a migliorare la qualità della vita, la bellezza e la comodità della nostra Fano e non solo. Innanzitutto sono quasi 4 milioni per il waterfront, sia Torrette Ponte Sasso che Sassonia Lido. Poi c'è una summa per riqualificare l'ex Agip, c'è un milione e mezzo per riqualificare la piazza Andrea Costa, che si unisce all'altro finanziato di piazza Marcolini, e anche Viale Battisti che era nell'altro finanziamento. Poi c'è il finanziamento del secondo stralcio del centro civico di Gimarra. Poi c'è la realizzazione di una nuova pista ciclabile importante che fiancheggia il parco che arriverà fino alla piscina. E poi c'è il parco, il terzo stralcio del parco urbano con la casa del custode, di cui abbiamo già il progetto. Quindi come vedete sono progetti importanti che riguardano la qualità e il miglioramento della nostra città. Vorrei anche ricordare che nel 2022, già appaltati tra cantieri partiti e appalti del mese di dicembre, avremo quasi 50 milioni di cantieri nella nostra città. E questo mi sembra un buon modo per chiudere l'anno che abbiamo lasciato alle spalle, ma soprattutto per iniziare il nuovo 2022.